Cosa ho detto di sbagliato? Sei tu sbagliato Mario? Vedi che è una cosa molto generalisticamente terribile quella che mi dici La zia di Mario Abebas Bello Mi fai un po' di Wild West mentre studio storia medievale Ti piace come ide... Non si è manco visto, pensa te Ci abbiamo Lenny, non ci posso credere Ma boi Sento caudo, vabbè Oh, chiamata Colpa mia 5 dollari? Oddio, e che c***o fa? Aspetta un attimo, non ho il fucile Ah, non ho capito che era via Dove sono le bottiglie? E le altre? Ma io non le vedevo Rivincita Post Malore, grazie per il sesto mese Ok, ok, ok Non avevo ancora detto via Non avevo ancora detto via Come faccio senza occhio? Posso fare così? Sto perdendo un sacco di soldi Sto perdendo un sacco di soldi Ora ti spari in testa Voglio rigiocare Voglio rigiocare Ah Parla... Dargli la quota mi aumenta l'onore? Dai, ma le bottiglie Non le vedevo Si mimetizzavano Che brutta figura Lenny Ma booooi Non ti ho mai visto con un cappello So, Lenny Cosa ha lanciato? Facciamo la vecchia squadra, Lenny? Mi fai il tempo per farmi la barba? Vabbè dai può stare con sta barba, è bello Arthur Morgan Che gioco da canne che è comunque Oddio Si è fatto buio Guarda quanto è grosso vedo rispetto al suo cavallo No no no, Lenny ha un cavallone Il punto è che il mio non esiste Eh ma se Lenny mi ha portato fin qua a rubare ce l'avrà un piano Non è che c'è un'imboscata Ficata di ambientazione eh Cinghiali No no, sono bufali Mi vibra il joystick Non è che c'è un'imboscata Hey boy Hey boy Qual è il pompa? Fucile a canna liscia a pompa E Springfield a canna legata Bene 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 Sono già qui Lenny Lenny Spettavolino 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 drummer , spettavolino Il studente . е Fantastissim So, ti fai faremo? We're here for your guns and your money! Get them up! No! Got you! Down! There! Hold on! There! There! I'm trapped here! Up there on the ground! Look out! He's firing! Get your head down, kid! I'll take the shot! He's firing! Go! Here! Go! 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 tempestato, grazie per il settimo mese. Bentornato, brothers. Ce l'abbiamo fatta molto bene. C'è una roba questi, eh? Quanto amo sparare su questo video di gioco. Letteralmente fottuto questo videogioco, sì sì sì. Senti la dopamina che mi sta facendo diventare misantropo? Infatti ho paura di vedere la mia ragazza, perché è tempo che mi dice ciao amore come stai, penso di averle già spaccato la testa con un fucile a canne mozze. Può succedere, ma certo, ma hai idea di quante ore ai videogiochi passo io? Ma poi hai visto cosa mi leggo io di notte? Sì, tutti sposati. Ho rovinato un paio di famiglie qui, eh? Che dobbiamo fa' qua? Porto il carro via, Lenny? Non è quello che devo fare. Ah, devo ispezionare le casse. Quindi da qua. Ah no no no, un triangolo mi fa salire di là, perfetto. Ho capito, qua devo fa'. Fucili. Sì, però anche l'esplosivo ci teniamo, c'ho paura. Io guadagnerei di meno e non darei questo rischio che ci inseguono. Magari è sopravvissuto qualcuno, porca loca. Non ti sento, Lenny, non capisco, non mi mettono i sottotiroli. Vedi? Ricordiamoci che siamo nel sud. Nel sud dell'America, dove c'è molto più razzismo. Ma dove c***o sono le mie munizioni? No, 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 no. non penso che abbia una coltellato gali è buono avere qualcosa di questo Sean è un grande grande più di quello che Sean fa Hey, mi piace di lui, sai? Beh, certo lo so e per un giudizio più bene solo se ti preoccupi non era in Leviticus di Cornwall con me, noi abbiamo dovuto lo scoprire da Blocco Ma... Ma... Me e Dutch e tutti che conoscano Scusa Love Topic ma ci sarà mai una nuova puntata di fantasia con Ciccio? Certo che ci sarà Certo, certo che sì Non è in programmazione da discrete settimane effettivamente Ma troveremo sicuramente modo Devo dire che sono stato soprattutto io a essere impegnato Ciccio mi ha contattato per venire a casa Però ha coinciso con il fatto che fosse a Roma Lo amo Lenny Mi voglio proprio bene Ma boi Lenny Ma boi Minchia Minchia mi ha aperto la porta proprio quando sono arrivato Hello Partner Hey there Sir Candleland I dolci piaceri del tabacco I dolci piaceri del tabacco L'ammazzo L'ammazzo Ma Sì, potremmo prendere quello per te, ma qualcuno è piaciuto di essere corso, c'è la questione di acqua. Oh, abbiamo acqua, signor Mathews. Papi, fondi, metà... Ha, non ti pagherà con una certifita città, che città. Non c'è una bambina più bellissima, Arthur. Si sembra che una donna potrà portare i bambini, dopo tutto. Veramente molto, molto antipatici Minchia, Sean Ti ho detto che non puoi guidare, non Che non potrai mai avere figli Andiamo Calica hole Mi piace questa parte del terzo capitolo dove Dove siamo in questo sud, dove proviamo a fregarli Almeno non i Bret White, sto parlando degli altri, non mi ricordo come si chiamano Facciamo pensare che siamo dalla parte della legge quando non lo siamo In realtà abbiamo un'altra identità Culturalmente è cambiato tutto, guarda come hanno cambiato, come hanno trattato Lenny Si sente proprio l'atmosfera che sei in un altro posto Pure i paesaggi sono cambiati Ha fatto troppo bene Sono dispiace, avete detto che dura come ore? Tipo 100? 200? Mi sarebbe piaciuto che fosse un gioco da 1000 ore questo Cioè non penso di potermi saziare dopo 200 ore di gioco Poi non è che andiamo sempre a fare le principali Quando troviamo un punto interrogativo lo facciamo sempre Però penso che Ci lascerà più o meno fra un mese Fra un mese l'avremo finito sto gioco, no? Sapete cosa stavo pensando ragazzi? Di rigiocare Hollow Knight Eh sì Me lo fai un sondaggino, Jovi? Su questa cosa? Ah no, subito puoi anche Oddio, pericolosissima sta cosa Ciao Zaller Hollow Knight, Lies of P Sì Non c'è nessun domani, non c'è nessun domani, non c'è nessun domani. Prima che i giocatori arrivano qui. Ok, ok. Prendete qui. C'è un po' di là. Oh, grazie, amico. Buongiorno. Sean. Hamish. Buongiorno, Hamish. Hehehehe. Eh, bene, ma ne ci sono qui? Non così bene come Canemarra, ma bene comunque. My persone vanno da Scopoli. È vero? E ti e noi siamo quasi braci. Heheheheh, cheheheheh. Ehi, cheheheheh. Ehi, cheah, 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 cheah. Come, come. Come, come. Come, come, come. Come, 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 come. Come, come, come. Disgust! 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 Ma io teoricamente potrei premere i triangoli e farmi vedere! Papanada! 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 Ma l'ho fatto Sean? Stavo facendo sneaky sneaky! Ho vinto Hollow? Attenzione! Così ci prepariamo anche a Sealsong! Posso credere che non esce ancora? Finito soltanto il primo finale, quello classico! E poi ci prepariamo le cose con questi piccoli ragazzi qui! Grazie a tutti che non è riuscita! E l'ulto bambino dovrebbe andare come una torta! Come una torta! C'è quello che pensi che hai bisogno? Si dovrebbe fare. Andiamo fuori dall'alto. Guarda, una volta che ci sanno, non ci saranno mai avanti, quindi andiamo rapidamente. Ovviamente. Io sono rebel stock, ragazzi. C'era una barbara in manor di casa. Andiamo a freddo. Quiet! C'è qualcuno che viene dall'alto. oh hey i thought the wagon already arrived this one didn't strange so what you got there tools, payroll ok drop it by the supply shed at the back of the fields sure, see you later hear that payroll yeah let's get this job done first ok i'll take care of this fellow what you go to the fields i'll meet you at the barn try to stay out of trouble ah i i i i i i i that should do it that's good voleva un bel fuoco ora devo andare di là shhh non trascurare anche le secondarie certo certo ma che fai scherzi ok i ok hi and with me oh i i i i That's good for you. Oh merda, come ha fatto a nuotarmi? Ok. In acqui uno. Shhhhhhhhhh. Next. Ok. Ok. Ok, qua ho sbagliato. Devo essere più distante. L'altro dov'è? Oh merda. Ok, quello si è girato. E l'altro dov'è? Lì. Ok. 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 Troppo bravo bro Sei veramente simpatico L'eccezione del fatto Che dicono che i tiktoker Sono dementi Troppo bravo Jules Troppo simpatico Troppo bravo Seguitelo è un grande Altro che lo straordinario Gary Porco È uno scherzo È uno scherzo Grazie Notlupo Ti ha regalato la sub Julesone Grazie bro Corri A posto a posto È fatta 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 Assolutamente Assolutamente Non adesso Si è già mosso no? Si è mosso adesso Guarda con che animazione Si muovono ste c***e foglie Ciao Davide Eccolo C'è Sean Minchia bro Il fischio al momento giusto Andiamo Eccolo And now but only for now Now it's time to be a god Now it's time to be a god Now it's time to be a god Che palle Che palle Basta Basta Guarda non me ne frega Guarda non me ne frega niente Madonna 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 Ma guarda qua Eccolo Accendiamo. E' preso le buste paga? Wow! E' preso! E' preso! E' preso! Bravo, Betto! senti questa musica però wow io credo che ci hanno perduto siamo morti abbastanza buona sicuramente è interessante quando la città duchessi uscire nel giro sì, spero che lui e José si scrivono che c'è qualche acqua non c'è nessuno ma cosa ora? tornare al giro ti arrivi? iniziamo certo inglese un altro lavoro bene Bene Missione che finisce Missione che trovi Che sei col posto Unica missione è quella là Bill Jamison Semplicemente Queste sono tutte missioni secondarie Che dite se andiamo da Bill Però la prima che facciamo È la missione di Leopold Strauss Così ci facciamo una secondaria E poi torniamo alla principale Ciao Bill Koala Kong Come stai Manu La missione di Bill è principale Fammi fare un attimo un giro lì Perché ci dovrebbe essere Leopold Strauss Fammi fare una secondaria giusto Aspetta Bill Intanto ce lo faccio a fare sia Arthur che te Forse no Forse no sono le 34 Facciamoci un'altra principale Non ho mai letto Monster This isn't my fault This isn't my fault It's a bank Is the take good? According to the fellow I met Yes It's the end of the stock sales Plenty of money Plenty of people milling about Ah si lo diceva Toots E questo gioco sarebbe stato doppiato Cioè Doveva essere doppiato Questo gioco Il gioco dove passi in vari posti dell'America diversa Se ne gusti la cadenza Questo gioco Gioco che ha meno bisogno di una voce italiana La porca Vabbè ma tuzze Dici pure che mi battessi cuore a Tenkaishi So Tell me again about this big can't go wrong clan of yours Oh it can go wrong Anything can Once the shooting starts Well that's reassuring Like I said We'll see how it looks If we can get in alright We'll send Miss Jones a head to the bank They won't recognize her I'll show you boys how it's done What are you thinking this time? I don't know Fellers always like the lost little girl But nobody plays a drunken harlot quite like me These should work Once she's got them distracted We'll move in When I was scouting the place the other day There was only a couple of guards We deal with them And any customers who are feeling brave And you always fancy yourself as the volant Man right Arthur Now I see why you brought me Hey I'm more than willing No No And did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them gray boys? What? No What kind of deals? See You don't realize Morgan I'm out there putting in the work same as you I've been drinking with them a couple times now Seems they're looking for some air Extra security Yeah I'm sure they are Could be something in it for us Well Just be smart about it Got a lot of iron in that fire right now Yes I know Morgan Bellissimi archi Bellissimi archi So How are you feeling about this Lenny? Well at first I thought it was a bad idea Bad idea They all love you think about them long enough Certainly have been recently I mean why the hell not Ciao Joe Asdre Ti do il benvenuto e ti mando un bacione And if we didn't rob this bank Grazie per il primo commento Bei scenari bro Guarda che favola I hope so All right Guess we're doing this then Sempre questo posto in mezzo a questi due Però adesso è diverso Guarda quella montagna Su quella montagna ci si può andare sicuro Sono in blind sia un imano Me neither Guarda questa Guarda che Guarda che Guarda sta Guarda che Guarda Guarda che Non ci siamo mai stati qua Non ti viene voglia di prendere un cavallo E andare realmente in giro in questi posti meravigliosi No Magari a piedi con un torcione in mano Ma a cavallo no Ho paura Beato That's my boy That's my boy Ah qua c'è quell'antipatico di merda Parcana da Che freddo i piedini che c'ho Devo mettere i calzini Bed Oh che pedo che è Ciao pedo No vabbè Ma si tro... Si troppo pedo Si troppo pedo Ci siamo eh Beh fai l'ubriaca Karen Si bait Tra poco Decisamente Decisamente No vabbè Chiarazolatio Now where is he? If you're ready get going Good luck gentlemen We got this Where is he? Where is he? I can see him? I really think you should leave madam I'm not leaving Till I find him Ok we're going No hold on Wait till she's gone real damn You don't know me I'm stuck up in here Not so god damn stuck up like night Sean Just between those I've never seen this woman in my life Get your god damn hands up This is a... Robbery Nobody move Don't hurt us Nobody move Don't make us hurt you Here Unlock the doors It's unlocked We're good What do you think we're here? No Come on Come on Come on Open the goddamn vault Open it Open it Mamma mia che bellissimo urlo che ha Hurry up How's it looking? Open it Are you in? Nearly This son of a bitch needs to get a move on Ok 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 Too goddamn slow Ok Apri le cassaforti Voglio farlo io Fammi sentire vediamo come si fa Mentre l'ultima manovra la rotazione di L rallenterà man mano che ti avvicina la cifra corretta Rodalentemente Cosa dovrei fare non ho capito Ok Ah l'ho già trovato il secondo Ok Quanti soldi Attenzione eh Attenzione Attenzione Ok Porca Ragazzi ma quanti soldi sono Porca Quanti soldi Quanti soldi Quanti soldi Quanti soldi Attenzione L'ultima This is looking good. How much longer? Nearly there. Nearly there. Maybe. That's never enough. I know. I'm ready to get the hell out of here whenever you are. Okay. Praticamente il tipo alla banca che apriva la cassaforte mi ha abituato alla pazienza che avrei dovuto avere qua. Ma qua ce n'è un'altra? Ce n'è un'altra qua, fratello. Aspetta un attimo. Sembra trattarsene molti soldi. Uno. Dammi no. Andiamo. Dammi, dammi. Eh certo, deve farlo. Sono tantissimi soldi. Sono veramente tanti soldi. E lui? Ahia. Giusto non gli sbirri fuori. No where else you can... No, it's over! Assuming folk ain't getting there, you won't sting! I said, come out now! What do we do? I don't know, give me a sec. If the shooting starts going... I don't know, give me a sec. I'll go. Follow me. What, are you insane? Are you insane? Don't shoot! Don't shoot him! I've made a terrible mistake. Get out of there, miss! Sorry. Ma che... Ma che... We're shooting our way out of here, boys! I'm on the balcony! You see him? Take that bastard! I'm going to hide, Arthur. Ok. Ok. Ah... Let's go! Come on! Attent, I got him! It's time to get the horses! Run it in! Come on! Head for the horses! Take them down! Let's go, goddammit! Ah, for my dog. She's going to be here. What the hell are you doing? Oh, where do? Where do we go? All right. Yeah, yeah! Rise! Get the hell out of here! No, it's time to go, Woody! Who? There's more of them! Ah! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Do you see any more of them? Goddammit, there's more of them! We've got more coming in! Ahhhh! I'm bad. They're still coming! Come on, get across! You've got to beat that train organ! Oh, shit! They're going so well, I wanted to kill everyone! My God! Come on, get across! Madonna mia! There's more of them! I've become really brave to shoot! Ah, let's see if it's true! Nooooooo! In mezzo! There's more of them! Where the hell are they coming from? I want to kill you! No mercy for you! There's more of them! They're still coming! There's more of them! No mercy for you! No mercy for you! I'm gonna kill you! Qualcuno me la deve sucare Carantiamo Quanti soldi sono, raga? E mi sa che sono molti soldi Fammi vedere quanti soldi sono, dai Mrs. Towns Ah, devo raggiungere ancora il re Ah, vero Il debito con Strauss Arrivo ragazzi, so che sono le tre Ma cerchiamo di risolvere Anche questa Che è la secondaria di Strauss E ci sono Certo che conosciamo tutti il re vegeta Giov, ma che cazzo di domande sono? Bellissimo gioco C'è Sporky? Grande Sporky Eh, la maratona bisogna aspettare Vediamo se riusciamo a farla col gol Così è una maratona tipo da Più giorni estendibile Oppure faccio qualcosa di più Di più piccolino Vedremo La vedova Signore Con il suo figlio Con il suo marito Ma senti che musica Ma senti che ci sono o qualcosa che mi piacciono. Tu non ti chiedi a la eternità? Tu dovrebbe. Sembrano che sia molto fissile, signora Downes. Se non mi senti che ho stato venduto una scena di caratteristica. Ora, por favor, dà me il money. Tu hai un'esplice o lai, o un'esplice di rispettura. Cosa cosa? Non ho un'esplice o lai. Non ho un'esplice di rispettura per la vostra. Beh, magari quando la tua madre ha finito Mourning your father I'll keep her in black On your behalf You think on that point? Maybe you shall, sir And maybe other events will transpire You best stick to them books Because mark my words on this Vengeance is an idiot's game Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness I'll have to take your word on that Good day Arci In chiaro, l'ho riconosciuto qua Arthur L'ha veramente minacciato forte Che strano Mi ha dato delle vibes diverse Perché? Perché si è comportato così? Buonanotte, Zuge 20.000 10.000 La banda A me 2750 dollari Abbiamo 4.000 dollari L'onore è sulla media Dai Sto comportando meglio Ragazzi Questa puntata di Red Dead Redemption Finisce qui Ma prima Facciamoci la barba Rasati Guarda quanto è cresciuta la barba Il nostro Arthur Ragazzi di Red Dead Redemption 2 Bacioni Questa puntata di Red Dead Redemption 2 Questa puntata di Redemption 3